Mi chiamo Gabriele Parlanti, sono direttore di produzione e direttore di stabilimento di questa unità produttiva dell'Antonio Merloni. In questo stabilimento l'Antonio Merloni produce bombole per GPL in acciaio saldato e per gas refrigeranti o gas tecnici. Noi applichiamo saldature sia ad arco sommerso SAV che GMAV. La saldatura viene effettuata con una singola passata. Gli impianti di saldatura sono automatici. Il Novark è stato utilizzato nella saldatura GMAV, in quanto questa azienda è partita storicamente da una saldatura ad arco sommerso SAV, sempre con materiale di apporto fornito dalla Pittini. Questo passaggio per noi importante ed epocale verso la saldatura GMAV è stato accompagnato dai vantaggi forniti dal materiale Novark che ha portato a contenere scarti di produzione che erano dovuti a fili più ordinari, quindi minori scarti, minori fermi e migliore qualità del processo e del prodotto finito. Pittark per noi è un partner storico, è fornitore di questa azienda sicuramente da oltre 30 anni, fornisce prodotti che per noi sono di qualità, per il nostro prodotto. Inoltre è un partner affidabile anche dal punto di vista tecnico nella risoluzione di problematiche che mano a mano vengono affrontate e risolte. Grazie a tutti!